Si sblocca una situazione ferma da più di 10 anni che è la realizzazione della stazione di testa della linea 6 con il deposito dei treni, un'infrastruttura fondamentale perché consentirà l'immissione dei nuovi treni nella linea 6 che oggi non aveva la possibilità di poter introdurre nuovi treni, quindi noi partiremo con i vecchi treni proprio per questo motivo, ma anche sarà la stazione di snodo delle nuove linee che vanno verso Bagnoli e poi verso Posillico, con un grande intervento poi di riqualificazione urbana, con servizi per gli studenti e studentati, un accordo fondamentale per sviluppare un pezzo di città e realizzare un nuovo pezzo anche della mobilità con un investimento di più di 250 milioni, risorse già disponibili che quindi partiranno in tempi brevissimi. Finalmente si realizza un sogno, quello di cercare di ricucire la città nella stazione di Campi Flegrei. I tempi sono tempi medio-lunghi, siamo partiti e questo era importante, siamo partiti a quattro braccia, il gruppo Ferrovie dello Stato e insieme con l'amministrazione comunale renderemo disponibili le aree che sono al di là della stazione di Campi Flegrei per realizzare il completamento o una parte del completamento della linea L6 metropolitana che collega Mergellina alla mostra di Oltremare oggi e poi nel secondo tratto raggiungerà anche Bagnoli. E qui verrà realizzato su queste aree una stazione di scambio e un deposito molto importante. A Fuorigrotta, nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria, stamattina è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Comune e Ferrovie dello Stato per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione di Campi Flegrei e per la realizzazione della nuova stazione Campegna e del deposito a servizio della linea L6 della metropolitana di Napoli. Un momento utile anche per fare il punto sugli sviluppi e sulla situazione delle altre linee della metropolitana e della loro interconnessione. La linea L6 verrà aperta fino a San Pasquale, ci sarà l'apertura nei prossimi mesi, stanno completando i collaudi. Poi nel giro di due anni arriverà Piazza Municipio, quindi fino a San Pasquale spero prima dell'estate che ci possa essere l'apertura della linea. Ci sarà la possibilità di inserire i nuovi treni che noi abbiamo già ordinato adesso perché prima non si potevano mettere e ci saranno a regime dieci nuovi treni che garantiranno il servizio ogni cinque minuti sulla linea L6. Sui treni della linea L1 ci sono novità? Sì, stiamo facendo passi in avanti, quindi noi ci auguriamo che nel giro di pochi giorni possano riprendere le prove di collaudo dinamiche in movimento. Mettere i treni della linea L1 in circolazione, quella è la battaglia numero uno perché se la linea L1 è efficace e efficiente, tutto il sistema dei trasporti ne beneficia. Anche la linea L6 di cui oggi si parla perché c'è intescambio a Municipio, quindi questo è certamente il compito più importante visto che abbiamo già 12 nuovi treni da 105 metri. Su questo il Ministero sta lavorando a nostro favore, quindi spero che nei prossimi giorni possano ripartire le prove dinamiche che furono sospese a luglio quando ci fu quell'incidente, ma noi abbiamo dimostrato che l'incidente non fu dovuto al treno che non funzionava bene, ma a tutta un'altra causa che è stata completamente rimossa. Questo è il principale dei problemi. Poi stiamo trattando con Roma per un enorme finanziamento per la linea 10, questo è il compito più grande che abbiamo in queste settimane. La linea 10 è quella che deve connettere l'alta velocità di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore, Napoli. Questo sarà uno dei grandi compiti di questa amministrazione, cioè la nuova linea della metropolitana. Poi ci sono tanti altri problemi, perché non riparte la stazione di Mergellina della funicolare, questo dovremo risolvere nel primo semestre. Quando ripartire con la linea 6 seppur con i vecchi treni? Anche questo dovremo risolvere nel primo semestre di quest'anno. Quindi tutto sarà finito certamente per il 2026. Però noi, visto che abbiamo già ordinato nove treni nuovi, ci interessa avere la possibilità di mettere i nuovi treni il prima possibile. Però il lavoro non è semplice, quindi prima del 2024 certamente non se ne parla, perché bisogna fare un lavoro di connessione da Piazzale Tecchio fino a Campi Fogrei, passando sotto il fascio di binari, che non è un lavoro estremamente semplice. Quindi noi speriamo che entro fine 2024 una prima parte dei lavori, ma i progettisti stanno facendo il progetto definitivo.